Il tanto preannunciato colpo è finalmente arrivato. L'Orlandina Basket ha ingaggiato il primo straniero della stagione 2021-2022. Si tratta di Tevin Mack, guardia ala di 198 centimetri, classe 1997, reduce da una stagione in Kosovo, dove è stato il secondo migliore realizzatore della Lega con 24,5 punti a partita. Nel corso della sua carriera universitaria Mack ha vestito le maglie di Texas, Alabama e infine Clemson, dove ha conosciuto l'indimenticato Terrell McIntyre, folletto che ha segnato pagine indelebili nella storia dell'Orlandina Basket e che è stato fondamentale nel suo approdo a Capodorlando. Mack arriva con il benestare di Terrell McIntyre. Credenziali importanti, abbiamo parlato con Terrell, con la consapevolezza che la coincidenza del college Clemson sia una buona opportunità per quello che per l'Orlandina è sempre un aspetto importantissimo, quello di conoscere le caratteristiche umane dei ragazzi che vengono a Capodorlando. Terrell ce ne ha parlato benissimo, l'aspetto tecnico era già noto, anche lui ha aggiunto le sue valutazioni, sono contentissimo, è un ragazzo di grandissime qualità, spettacolare, energico, insomma in linea con i dettami del basket che Cardani vuole inoculare all'Orlandina 2021-2022. È chiaro che i due stranieri, Mack il secondo che sarà presumibilmente un americano ma non è detto che lo sia, abbiamo anche un'altra valida opzione est-europea sul tavolo, saranno sicuramente i punti di riferimento, ma credo che le qualità sia del giocatore che abbiamo preso che di quello che stiamo ormai concludendo permetterà anche a Matteo Laganà, a Fabio Gai, a tutti i nuovi arrivati, a Diuf che nuovo arrivato non è, di poter mettere in campo le loro indiscusse qualità, con l'abnegazione che caratterizza la nostra squadra storicamente, quindi con l'impegno, con il rispetto dei compagni, ma anche con la presunzione di vincere le partite regalando spettacolo, perché quest'anno finalmente torneremo a festeggiare con una parte del nostro pubblico, e dico una parte perché purtroppo al momento non potranno essere più di 500 gli spettatori presenti a Palafantozzi. Grazie.